occhi si sono proprio occhi quelli che ci fissano da questa coppa occhi grandi spalancati segnati da cerchi concentrici intorno ad una pupilla nera e lucente infatti noi archeologi la chiamiamo coppa occhioni il vaso è greco una chilix una delle coppe per eccellenza usate per bere vino durante il simposio quel dopo cena degli aristocratici greci che era anche una cerimonia sacra un rito nel segno di dioniso e dioniso il dio che donò il vino agli uomini e cui rappresentato al centro di profilo ammantato disteso sulla schiena di un satiro barbuto che avanza a fatica tra tralci di vite e grappoli d'uva ma non solo il dio è accompagnato anche da due mena di impegnati in una danza vivace sono tutte le creature selvatiche ferine invasate del corteo dionisiaco ma ogni particolare richiama dioniso il suo mito anche i piccoli delfini sotto le angse ricordano la metamorfosi la trasformazione operata dal dio sui pirati che l'avevano rapito e il vaso in realtà si presenta come una maschera la maschera senza voce di dioniso il dio che ti guarda in silenzio occhi negli occhi rivolgendo il suo sguardo a chi sta per sollevare la coppa e bere ma anche a chi osserva il bevitore perché gli occhioni sono su entrambe le facce esterne del vaso ed è dioniso che si manifesta sia nel vino sia nella coppa richiamando il valore sacro del rito del simposio e la comunione con il dio attraverso il vino un'altra maschera compare sul fondo della coppa mentre il vino viene bevuto è il corgoneion lo sguardo della gorgone medusa che pietrifica chi la guarda secondo il mito forse un monito a non eccedere nel consumo del vino forse un simbolo apotropaico di protezione di dissuasione contro i malefici ma anche contro le proprie ataviche paure interiori una valenza apotropaica da sempre attribuita anche agli occhi e non è un caso che il filosofo platone abbia scritto che per vedere se stessi bisogna guardare negli occhi altrui anche in quelli di una divinità e questa pregiata coppa in ceramica figure nere di produzione attica è un'importazione che faceva parte del ricco sfarzoso corredo della cosiddetta tomba della regina di inumana sirolo di fine sesto secolo avanti cristo un corredo composto da una miriade di oggetti che accompagnavano nella morte questa ricca signora picena come espressione di rango e di potere inumana sirolo di fine sesto secolo avanti cristo un corredo di fine sesto secolo avanti cristo che